C'è grande attesa per l'incontro di oggi che verrà tenuto in una località sul confine tra Bielorussia e Polonia, tra le delegazioni Ucraina e quella russa. Dopo il primo incontro in cui sono state portate le richieste di entrambe le parti, si guarda a oggi con grande attenzione. La Russia chiede che la Crimea venga riconosciuta da parte dell'Ucraina come territorio russo, che le autoproclamate repubbliche del Donbass ottengano l'autonomia e che di fatto anche la demilitarizzazione della stessa Ucraina veda anche seguire un percorso di neutralità, ovvero una non adesione in particolare alla NATO. Dalla parte ucraina invece si chiede il ritiro delle truppe russe dal territorio del paese, inclusi Donbass e Crimea. Se queste erano le richieste del primo incontro come detto si attende molto oggi quanto verrà preso in considerazione e soprattutto se la direzione potrà essere indirizzata sostanzialmente al dialogo. Nel frattempo un importante accordo, un accordo in questo caso tra Cina e Russia inerente proprio le risorse energetiche, quelle risorse energetiche così importanti per la stabilità produttiva del contesto europeo. Invece tra Russia e Cina l'accordo c'è stato e porterà in Cina 50 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Una forte dipendenza quindi da parte della Cina nella direzione della Russia per quanto riguarda il gas ma contemporaneamente anche per la Russia nei confronti della Cina proprio per il mantenimento dei suoi interessi economici riferiti proprio alla produttività nel contesto delle risorse energetiche. E mostrando come la vicinanza è una vera e propria alleanza anche strategica tra Cina e Russia si stia consolidando sempre di più e quell'incontro che c'è stato a precedere le olimpiadi di Pechino ne è stata soltanto una anticipazione. Vicine sempre di più come detto Russia e Cina mettendo in evidenza come di fatto in questo momento l'Ucraina si trovi in una posizione sostanzialmente difficile. Difficile perché sta vivendo sul suo territorio gli effetti drammatici di quella che è una guerra e tanta sofferenza sta portando al popolo ucraino. Ma se andiamo ad analizzare il contesto della politica globale in questo momento i quattro attori Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Russia evidenziano come poi in definitiva tre ne usciranno sostanzialmente vincitori e uno sconfitto. Lo sconfitto sarà rappresentato proprio dall'Unione Europea perché di fatto gli interessi europei verranno sostanzialmente compromessi di fronte a quella strutturazione geopolitica che c'era precedentemente e che ormai non c'è più. Il mondo quindi diviso in due da un lato Russia e Cina dall'altro Stati Uniti Unione Europea. L'Unione Europea costretta a dipendere sempre di più proprio dalla presenza degli Stati Uniti in una contrapposizione che va proprio a toccare i suoi interessi principali perché come detto le risorse energetiche russe vedono una corrispondenza nella direzione della produttività e di tutti quegli aspetti che si legano al mondo commerciale con la Cina, il mercato di un miliardo 412 milioni di persone. Ma questa contrapposizione come detto in nome dell'Ucraina ha preso la direzione di portare a determinate posizioni sugli assetti della scacchiera internazionale e grande preoccupazione si sta indirizzando proprio nell'estremo oriente temendo che Taiwan possa diventare la nuova Ucraina in quel settore. Per oggi questo è tutto.